Un progetto molto interessante portato avanti dai ragazzini della scuola media di Iliaga, la storia racconta. La storia è maestra di vita, affinché sia maestra è necessario amarla e per amarla è necessario fare esperienza, cioè bisogna andare oltre quelli che sono i tradizionali metodi didattici. Di conseguenza il ricercare cimeli, monete, lettere assume una forma di fondamentale importanza. In qualche modo leggere le lettere evidenzia il dramma della guerra. Vedete il rischio della società attuale è quello che la parola perda il proprio potere evocativo. Viceversa, con la lettura di parole di ragazzi pronti a morire sul fronte, allora la parola assume un significato fondamentale, cioè l'amore e la pace che possono vincere contro la guerra. Il progetto ha preso piede così, si è materializzato in poche settimane, con l'aiuto ovviamente di alcuni colleghi che ci hanno dato un supporto notevole e soprattutto dei genitori che hanno avuto la fiducia di affidarci degli oggetti che, a parte che è un valore sicuramente anche vero, hanno anche un valore simbolico, emozionale altissimo. Il progetto ha preso piede così, si è vero, 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 è vero.